musica uuuu orca miseria ho dimenticato di mettere un attimo la cosa aspetta che ho sbagliato a fare delle cose weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e ragazzi stiamo cercando di fare una roba incredibile che cosa stiamo cercando di fare stiamo cercando di raggiungere il livello 300 su fortnite un traguardo veramente importantissimo che da settimane stiamo rincorrendo peggio che le lepri con le volpi devo ovviamente ringraziare tutta la community che mi sta aiutando devo ringraziare tutti gli snappi che mi stanno facendo arrabbiare devo ringraziare tutti voi in generale come vedete o come avrete visto qualche secondo fa siamo in una lobby molto particolare perché abbiamo un sacco di deadpool pronti ad aiutarmi ma stiamo cercando di essere matchati con un'altra lobby piena di gente che sta per darci una mano quindi mi rimetto un secondo in full cam ragazzi do il via libera al ninja di fare il suo countdown e ci risentiamo fra quattro secondi attenzione signori attenzione potrebbe essere andata bene attenzione ragazzi mancano 4.000 punti e come vada come vedi attendi 76 dicono incrociamo le dita mettiamo l'audio attendo attenzione signori come vava e banane non banane vado 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 it's lei it's lei forse la volta buona leo dice buona gente dice ci siamo audio gioco l'ho messo dai 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 vediamo un po la vedo grey venitemi banane banane come to me non sto vedendo nessuno Buona Non vedo banane Vedo una banana Che salta Io vedo sushi No 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 mi sa che non ci siamo La prendiamo ugualmente Signori questo è il livello 300 Signori Le banane le vediamo a prescindere Magari questi non hanno banane Non ce l'abbiamo più fatta Fa nulla lo prendiamo signori Ma io direi che Sì lo recuperiamo a sabbia ragazzi Un traguardo veramente meraviglioso Anche perché appena faccio il livello 300 Io penso di chiudere la partita In modo che andiamo in lobby E vediamo la banana sbloccata Andiamo andiamo Eh sì certo inutile fare la partita Attenzione Mancano 4000 punti Quindi ragazzi La prendiamo super fast Ho capito Stiamo a video su youtube Non dica parolacce Andiamo Ansia non si può dire Una parolacce Entriamo Aspettiamo che arrivino i ragazzi Signori salutiamo intanto un pesce con gli occhiali Tutti in piscina Tutti in piscina Se c'è qualcuno vada in piscina easy Lo facciamo signori Peccato per le banane Che cavolo Dai questo livello 300 Dai questo livello 300 Acciderbolina E che cavolo Ci cipolette Lo prendiamo ugualmente C'è qualcuno che sta rubando forzieri Questa cosa mi sta disturbando Abbastanza Chi è il genio che mi sta fottendo i forzieri Sei veramente un gran figlio di un forziere Andiamo Ed eccola qua I 5000 punti non sono sufficienti Eh signore Banana sotto Banana sotto da uccidere Signori ci sono Ha arrivato Ed è livello 300 Volevo ringraziare Andarci un attimo in giro con la moto Dai ragazzi Andiamo in lobby adesso Banane che mi seguono Ammazziamo giusto così per per condizionare una banana Easy Che è un cup 0-2 Esatto Andiamo in lobby Andiamo in lobby Vediamo cosa succede Attenzione L'abbiamo preso infatti con la prima medaglia ragazzi La scalata è ancora lunga Mancano 50 livelli Ma Super standard Signori datemi one sec Wow Super standard Ma a noi interessa un'altra cosa ragazzi Che è ovviamente Vedere com'è la banana al primo step Ovviamente la equipaggeremo E andremo avanti Vi ricordo che sono tutti i giorni live su twitch Guardala qua Ahia il cappellino raga Ahia Guardalo là Guardalo là ragazzi Il cappelletto sopra Poco 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 Che sta diventando d'oro Quindi io ringrazio Tutti i ragazzi che hanno guardato questo video Per invece I ragazzi che sono in chat Non me ne sto andando Vi ricordo che me ne andrò alle 17.30 Mettiamo la banana Diamogli lo stile Modifica stile Ah Ero E Li cambia lo smoking No è con lo smoking normale Ma con la parte sopra rossa C'ha il cappelletto rosso ragazzi Non me ne sto andando Rimango in live Grazie a tutti Mi trovate in live su twitch Ciao 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 Ciao